Ciao a tutti, sono Carlo e questo è il mio canale! Lei è Fabiana! E' un po' che non ci sono i video, però me la ricordate sicuramente, la mia amichetta del cuore! Siamo a Sanremo, abbiamo fatto una vacanzina qui, quasi finita, le domani parte e quindi oggi facciamo un haul insieme. Lo sto facendo con il telefono, cioè back 2010 tipo, perché sono in vacanza, ho portato la macchina fotografica, il computer eccetera. Dovete sapere che Fabi è tipo la fan numero uno, dei costumi di Shein, ogni anno ne compro sempre un sacco e si trova benissimo. Io sono sempre stata un po' scettica, più che altro perché ho delle misure strane, io sono uguale, esatto, tu sopra e sotto sei uguale, quindi se prendi una S e una S, sia sopra che sotto, mentre io sopra sono più grande, sotto sono più piccola, quindi ho sempre fatto un po'... Sta notizia? Ero proprio tipo... Si interrotta comunque. Esisterà sempre una notifica che... Che interromperà un video haul. Vabbè. Quindi niente, quest'anno Shein mi ha fatto scegliere un po' di costumi, quindi ho provato anch'io di nuovi costumi di Shein e devo dire che mi sono trovata bene, molto bene. Non ho preso la taglia più grossa come faccio sempre perché se no sono sempre tutta troppo grande, io ho preso la M e di alcuni top, di alcuni... Eccoli qua! Lei felicissima, lei era così, speriamo non le vada, speriamo... Esatto, perché la M è la mia taglia perfetta. Esatto, io ho preso di tutte la M, io ho quarta sopra, sotto è più o meno S... E io ho seconda M. Ok, quindi questo per farvi capire un attimo le misure, nel caso è... Ma iniziamo? Vai. Questa? Sì. Ando con questo prima. Allora, questo è molto, molto, molto figo. Questo mi piace veramente... Non lo ricordo. Un sacco, te lo ricordi? No. Dai, quello monospalla, questa è una banno. Ah, no, sì, sì, sì. Un sacco, i costumi monospalla, ed è questo qui. Il sopra fatto così... Assistente. Grazie, assistente. Che bello, avere un assistente personale. Il sotto fatto così. Tra l'altro, io ho cercato tutti i pezzi di sotto, un po' più piccolini. Stile brasiliana, senza essere volgari. Esatto, perché dovete fare un po' attenzione, perché ci sono alcuni modelli che hanno un po' i mutandoni da nonna, che non ci piacciono molto. Il sopra è appunto perfetto, mi copre tutto alla meraviglia. Il sotto, così. Questo non te lo do, perché questo mi piace, mi piace molto. Poi, questo qui è anche meraviglioso. Mi piace un sacco, ed è un modello che va un sacco quest'anno, perché la parte di sopra è fatta da questi due pezzettini di costume. E la parte di sotto è bellissima. Ah no, beh, no, ricciata, scusami. Eh no, sì, la parte di sotto mi piace veramente un sacco, perché si può anche decidere qua quanto tenerlo sgambato, quando tenerlo... Quanto essere... Cosa? Quindi questa parte qua sotto mi piace veramente tantissimo. E appunto la parte di sopra è fatta così, potete decidere anche voi quanto tenerlo aperto, quanto tenerlo separato. Dietro si chiude appunto con due laccetti normalissimi. E questo è molto molto bello addosso. Sì, questo è bellissimo. Questo è veramente stupendo e c'è di tantissimi colori, anche tinta unica e tutto. Sì, ah, sincerissimo. Ma faccio vedere qualcosa di suo. Questo faccio l'assistente io? No, no, parla tu. Questo qui è meraviglioso, cioè lo volevo troppo. Eppure è veramente mini. E una M e guardate il reggisero. Piccolino proprio. Beh, anche a te sta piccolino, cioè sta proprio... Un po' giusto. Sì, giusto giusto. Giusto giusto. La fantasia è bellissima di questo Lilla con tutti i fiorellini, il modello pazzesco. Le mutande dietro sono così. Esatto. E' piccola. Questa è molto piccolina, ci sta un sacco. Questo è bellissimo. E comunque anche a ledoso sta benissimo. L'unica cosa che non ci piace tantissimo è il retro, fatto con... Ah, con i gancetti. Con il gancetto. Perché non puoi decidere tu quanto stringerlo. Esatto. Devi essere per forza di questa misura. Però me va, in realtà. Sì, esatto. Quindi questo è molto bello. La metti. Ah. Disordina. Abbiamo avuto un casino in casa per un'intera settimana. Adesso che lei deve partire, abbiamo oggi rimesso a posto tutto della mamma. Da dove iniziamo? Ah, questo è molto bello. Non avevo mica capito. Che è di Shein? Questo qui l'ho messo l'altro giorno in spiaggia. Ah, bellissimo. Allora, questo è un costume intero, un po' anni 50, vero? Sì. Con le coppe preformate. Anche un po' imbottite. Queste sono abbastanza imbottite. Sì. A me non... Sì, a me non piace. Però... E poi la cintura davanti, così. Bellissimo. Meraviglioso. Questo è davvero bello. Questo è veramente bello. Perché a volte i costumi interi dietro sono grossi. Sì, dietro sono terribili perché sono enormi. Invece no. Mentre questo qui è il giusto, copre il giusto. Questo è davvero bello. E appunto è una M. Questo qui è grossino per essere una M. Cioè mi sta perfetto, quindi... Sì, sì. Io avrei dovuto forse prendere la S. Ma infatti io dei costumi interi io prendo la S. Mi raccomando. Eh sì, per forza. Perché comunque qui siamo più piccoline. Sì, sì, è vero. Io prendo la S. Questo è un altro costume intero simile a quello che vi ho appena fatto vedere. Un po' con le coppe meno preformate. Grazie assistente. Grazie mille. Sì. E la cintura. Questo costumino qui ha queste coppette tutte arricciate che però vedete è molto meno preformato rispetto all'altro. Dietro è più mini. Ah, è vero. Sì, rispetto all'altro la schiena più libera, più nuda. Ma la stessa molto carina è questa cinturina. Che tipo lo zaino a scuola. Sì, è vero. E ti fa uno zainetto. Però si mette appunto così sulla vita. Ed è secondo me un dettaglio molto carino. È segnalo punto vita. Mi piace un sacco. E anche questo appunto M. Fai vedere qualcos'altro di tuo. Questo è bellissimo. Questo mi dispiace un sacco. Non mi sta in realtà. Cioè mi sta. Sì, ti sta. Mi sta ma non lo calzo benissimo sul seno. Quindi... Quindi è mio. È suo. Ti sta meglio. Quindi è tuo. Allora. Anch'io. Stiamo avendo qualche difficoltà entrambe. Eccola qua. Ci sono, no? Così. Allora, questo è molto semplice in realtà come modello. Perché è il classico triangolino. Però è una fantasia. È una fantasia bellissima. Pittonata verde. Così. E poi è molto carino anche questo laccetto qui con la freccia. Che si riprende qua. Esatto. E dietro è sempre piccolino. Piccolino, il giusto. Questo è molto carino. Molto bello. Sì. Ed è mio. Purtroppo sì. Che caldo che fa. Questo è molto bello anche. Super sbrilluccicoso. Super carino. Super di moda. E un modello. Brilla con me. Con la mia carnagione. Sì, esatto. Siamo un twilight unico. Il pezzo di sopra è fatto così. Un po' più sportivo rispetto agli altri. Ma è proprio mi sembra un po' tipo l'olimpionico. Sì. Tipo l'olimpionico barra sportivo. Che ne so, da running. Non so. Mi dà questa impressione qui. Però la fantasia bellissima perché bilanzinata. Sì. Tutto è glitter, glitter. E dietro così? Esatto. Quindi è il pezzo del tuo modello. Sì, esatto. Cambia un po' la parte di sopra, però ci sta. Ci sta, ci sta. E adesso ve ne faccio vedere uno. Lo fai vedere questo? Che è una follia. Sì, gli accessori. Poi ci sono anche gli accessori. È la spiaggia che ho preso molto. Allora, questo qua è bello per una foto. Sì. Perché? Questo qui è bello per una foto. Adesso vi faccio vedere anche perché. Allora. La mutanda. La parte di sopra, io ho follemente innamorata. Se avete visto il mio ultimo video su Shein. Sì, non sono anch'io come dall'altra parte forse. Wait. Esatto. Oh, madonna santa. Adesso vado ancora con me. Così se è in senso. Sì? Ok. Mamma mia. Se avete visto il mio ultimo video Shein. Tutto con quel vestito in tulle. Questa è la versione estiva. Sì. Ma no, la versione è bella. La mutanda è solo così. La mutanda è terribile perché è super sgambata. Ma non rende, ve lo giuro. È tipo proprio... Sì, sì. Ce l'hai sotto la scella. Sì, esatto. Altissima. Poi ovviamente molto grossa come taglia per me. Quindi come mutanda sotto non ci siamo per niente. Però questo è veramente molto scenico. Secondo me o da foto. Oppure se uno vuole una mutanda nera. Sì, esatto. Classica, nera. Bello. E' buono. Lo adoro. Bello, bello. E poi ho deciso di affiancare a tutti questi costumi degli accessori da spiaggia. Questo anche non da spiaggia. Cioè sono felicissima di aver preso questi scrunchies. Ci sono un sacco di scrunchies. Si chiamano così, no? Questi elastichini un po'... Così. Fru, fru. Li adoro. E qua c'è questo pacchetto con tutti questi colori. Ci sono anche tipo dei pacchetti da cento elastici. Una roba folle. Ha dei prezzi pazzeschi. Ma sapete che li uso veramente un sacco? Ne vuoi uno? Ci li ho. Ne ho comprati... Vabbè, ne vuoi uno di questi. Vediamo. Vediamo. Ha detto vediamo. Poi vi faccio vedere una cosa pochissimo sobria. Bello. Ma questo è l'ecolo sushi? Sì. Questo io lo amo. Ma soprattutto sai cosa? Con la coda. Bello, sì. Sai cosa? Un'umidaretta. No, vabbè, è bellissimo. Per proteggersi dal sole. Sì. Anche se tanto per fare un po' di scene. Un po' di swag. Un po' così credersela, no? Ci sta un sacco. C'era anche rosa. Però ho preferito giallo. Strano. Strano, vero? E dulcis in fundo. Ah. Un paio di occhiali. Ah, già. Il filtro Instagram. Il filtro Instagram. Ditemi se non sono bellissimi. Non coprono niente. Utilissimi. Utilissimi. Però anche qui per farsi un po' le fighe così. Sopera swag. Swag. Ok. Bene. Bene. Questo è questo haul di costumi dal mare. Direttamente dal mare. Siamo un po' sfatte oggi. Perché ieri sera siamo andati a ballare. Non abbiamo più l'età. No. Non abbiamo più l'età. Ve lo giuro. Tutto il giorno che siamo distrutte. Tutto il giorno che dormiamo. Il fatto è che io non ho neanche bevuto. Perché ero sotto antibiotico. Io non bevo. Quindi. Quindi vabbè. È veramente strana questa giornata. Speriamo che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Raccontatemi se siete in vacanza e che cosa state facendo. E noi vi mandiamo un grossissimo bacio. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.